La trappola di Emir e il coraggio di Zeynep. Dopo anni di tentativi falliti di mantenere Niyan al suo fianco usando metodi discutibili, Emir perde definitivamente Niyan, ora fidanzata con Kemal, con cui si sposerà a breve. Nonostante la sconfitta, Emir non è tipo da arrendersi facilmente e pianifica un ultimo disperato colpo per colpire Kemal. Un matrimonio a sorpresa. Emir, fingendo resa, sorprende tutti chiedendo la mano di Zeynep, la sorella di Kemal. Zeynep, convinta dalla falsa dichiarazione di sconfitta di Emir, accetta e i due si sposano in fretta. Tuttavia, subito dopo il matrimonio, Emir mostra le sue vere intenzioni. Ci sono cose che non cambiano mai. Ti sei arreso di nuovo a me, dice Emir in modo sprezzante, rivelando il suo piano di usare Zeynep come pedina contro Kemal. La rivelazione e la ricerca disperata di Kemal. Informato tramite un messaggio, Kemal si precipita a casa di Emir per salvare Zeynep. Ma ciò che trova è un panorama completamente diverso. Zeynep, devastata dalle recenti scoperte, ammette il suo errore nel giudicare Emir, e si rende conto della gravità delle sue azioni passate. La vendetta e l'inizio della redenzione. La situazione si complica ulteriormente quando Zeynep inizia a comprendere la vera natura dell'uomo che ha sposato. Questo la porterà a confrontarsi non solo con le proprie scelte, ma anche con la possibilità di redenzione e resistenza contro il male rappresentato da Emir. La vicenda si tinge quindi di toni di resistenza e di lotta interna, anticipando un confronto inevitabile tra i due fratelli e il manipolatore Emir. Queste dinamiche familiari tesissime, sottolineate da tradimenti e rivelazioni, costituiscono il nucleo pulsante di questa fase della narrazione di, Endless Love, promettendo al pubblico ulteriori sviluppi intensi e appassionanti.